Anacleto Ocleto, terzo papa della chiesa cattolica, primo papa greco, nato ad Atene e non si conosce l'anno di nascita. Morto a Roma nell'anno 92. Nel corso della storia della chiesa l'elenco dei primi papi è molto controverso. A partire dal 1947 l'annuario pontificio ha stabilito che la figura di Anacleto e quella di Cleto coincidono. Originario di Atene in Grecia. Visse sotto il regno di tre imperatori, Tito Flavio Vespasiano, Tito e Domiziano. La violenta persecuzione contro i cristiani scatenata da Domiziano culminò nell'anno 95. Essendo morto nel 92, probabilmente Cleto non subì il martirio. Durante gli anni di pontificato ordinò 25 sacerdoti, imponendo la tonsura, pratica ancora in vigore nella chiesa latina, ma non più obbligatoria dal 1972. Corò l'edificazione di un sepolcro presso la tomba di Pietro, dove venne sepolto. Morì attorno all'anno 92, presumibilmente per cause naturali.